Fino al 31 ottobre si potrà occupare con tavolini e ombrelloni il corso e altri spazi del Centro Storico a Lanciano. Via libera alle domande dopo l'approvazione della delibera dell'assessorato al commercio. Sono 40 le manifestazioni di interesse che alcuni hanno già formalizzato. Le risposte saranno cele, riassicurano il sindaco Mario Pupillo e l'assessore Patrizia Bomba, che assieme alla dirigente Gabriella Calabrese hanno illustrato l'iniziativa che intende favorire la ripresa del settore bar e ristorazione. Gli ombrelloni potranno occupare una spina laterale del corso presentoso. Solo il lato portici è stato specificato per una fascia larga 4 metri. L'altro lato infatti servirà per il camminamento e per eventuali mezzi di soccorso. Per l'occasione a Corso Roma tornerà la ZTL dalle ore 19 ma soltanto per tre giorni a settimana, giovedì, venerdì e sabato. L'assessore Bomba. Questo l'avevamo già innanzitutto concordato con molti dei ristoratori di lungo il corso. Ci dispiace, abbiamo dovuto aspettare la risposta della sovrintendenza perché c'è un protocollo di intesa. È un corso del Novecento, quindi abbiamo questo obbligo perché qualcuno ci ha detto che si poteva fare senza. Però potevamo farlo partire, ma se poi la sovrintendenza bloccava si tornava indietro. Quindi abbiamo ritardato una settimana, l'autorizzazione è arrivata, le domande stanno pervenendo. Man mano arrivano noi subito rispondiamo sulla concessione e quindi io presumo che da giovedì, se tutti si affrettano, noi rispondiamo tempestivamente. Se loro si affrettano, per giovedì possono cominciare. L'iniziativa piace agli esercenti. Ecco i commenti. Sì, sì, penso che sia l'unica maniera che abbiamo e che ha il comune di poter andare avanti in questo periodo strano. Perciò l'idea del poter usufruire di uno spazio leggermente maggiore può andare solamente beneficio sia di noi commercianti che della città. A volte ci sono state polemiche sulla movida in città e come esercenti cosa potete fare? Ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a far rispettare determinate condizioni perché ne va a discapito di tutti, perché la salute purtroppo è un bene comune. Perciò ce la metteremo tutta anche con la collaborazione delle forze dell'ordine e dei cittadini.